E quindi un attento monitoraggio avrebbe dovuto far scattare l'allarme. In realtà è stata sbagliata la previsione, è stato sbagliato il monitoraggio, ma questo ha dimostrato cosa? Ha dimostrato che l'allerta o il sistema di allerta, così come è concepito dalla regione e dalle ARPA regionali non funziona, non funziona né se siamo sotto allerta, quindi nel 2011 eravamo in allerta 2, l'allerta 2 c'era tutta la regione perché l'allerta 2 era stata emanata da Ventimiglia a Sarzana ed eravamo in allerta 2, quindi l'allerta 2 ricordo che è l'allerta massima per quanto riguarda la regione Liguria.